Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in direzione Firenze e tra la Strassigna e Montelupo in direzione Livorno. Si ricorda che il cantiere sulla FIPILI chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 e sull'autostrada A11. Sempre in FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Per quanto riguarda le autostrade in A1 in direzione Bologna a code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!